Gentili telespettatori, dormire è una cosa importante, prendetevi le vostre ore di sonno, almeno otto al giorno sono indispensabili, non fate come me, io posso anche dormirne due, tre, anche nessuna, ma io sono diverso, io sono una tempra forte. Le persone normali come voi devono dormire, è un consiglio Valda e Valda vi vuole bene. Italiani? State sani! È un'iniziativa Valda Laboratori Farmaceutici S.P.A.